Beh ormai non mi stupisco più di nulla, veramente non sanno più dove aggrapparsi e mi rendo conto, le elezioni si stanno avvicinando, è il miglior modo per farsi vedere spararle grosse, tanto poi una volta lanciato il sasso qualcuno replicherà intanto l'insinuazione è stata lanciata, ma cittadini per amministrare una città bisogna avere sostanza e non usare questi piccoli strumenti che non fanno onore a chi li dichiara e chi li usa. Allora per chiarezza c'è un elemento che dopo tanti anni del nulla questa amministrazione ha portato a casa dei veri risultati, a cominciare dalla fusione delle due ASET che oggi è una sola ASET, questo è il primo punto. Poi c'è una programmazione, c'è una collaborazione perché non viviamo sulla luna e bisogna anche tutelare gli interessi di questo territorio e quel accord diciamo è quello che vede la presenza in questo territorio, in questa provincia di due importanti impianti che vanno negli interessi dei cittadini, impianti che possono portare nel tempo veramente risparmi anche nelle bollette dei cittadini. Sono gli impianti TMB che è quello che tritura rifiuti e quello del digestore e allora noi riteniamo che su queste grandi strategie ci debba essere una condivisione, ci deve essere una presenza anche di ASET e di Fano e così è stato. Non esistono nuove discariche, anche questo è un falso, ma è un falso di chi lo annuncia consapevole di dire una bugia. A tutti i residenti di Falcineto, lo dico per l'ennesima volta, non esiste nessun impianto che verrà localizzato in quella realtà, fra l'altro comunque non si parla di discariche, si parla di un impianto di gestore. E su questo c'è un ragionamento anche con altre società, non è esclusa che possa essere fatta anche in un territorio al di fuori dell'amministrazione, del comune. Quindi sono veramente balle. È chiaro che chi aspira ad avere un po' di consenso e non ha gli strumenti, non ha la sostanza, perché dobbiamo parlare di questo, usa questi piccoli mezzucci. Quindi Fano non diventerà la discarica provinciale e con ERA c'è un rapporto di collaborazione, questa è un po' la sostanza. Dobbiamo discutere sulle strategie, tutelando gli interessi della nostra società. Una società che noi ci stiamo mantenendo, la discarica di Montesquiantello c'è, sarà allargata, ma questa fra l'altro risale ad un piano antecedente al nostro arrivo. Per cui veramente rimando al mettente queste insinuazioni e noi alle chiacchiere rispondiamo con i fatti.